Buongiorno, gentilissimi, ben trovati. Nonostante l'avvio incerto negli USA, i listini dell'area euro accelerano su nuovi massimi dopo il dato sull'inflazione USA che a febbraio registra un incremento superiore alle attese. In questo caso la Fed potrebbe posticipare il primo taglio dei tassi. Dal grafico dell'indice Fuzzi-Mib notiamo l'accelerazione iniziata da metà pomeriggio che fa toccare un nuovo massimo sopra ai 33.750 punti avvicinandosi al punto e mezzo di crescita. Lo stesso slancio lo troviamo sul grafico del DAX che sfiora la soglia dei 18.000, nuovo record, anch'esso poco sotto al punto e mezzo di guadagno. Gli indici di Wall Street stanno migliorando le loro performance dopo un avvio contrastato. Attualmente Dow Jones e Nasdaq stanno viaggiando a ridosso del più 0,50%. Il tecnologico è in vantaggio. A Milano tornano gli acquisti sui bancari. Oggi il miglior istituto è Monte dei Paschi che sfiora il più 5%. In ottima forma B per più 3,04% e Intesa più 2,31%. Amplifon realizza un buon risultato riconfermando i massimi da inizio novembre 2023 poco sotto ai 34 punti. Infine dal lusso Brunello Cucinelli avanza del più 2,32% mantenendo i top assoluti in area 114,5%. Dal lato opposto della classifica Erg ha meno 1,80% mentre Iveco è l'altro titolo del Fuzzimib a superare il meno 1. Ma il suo trend primario rimane impostato a rialzo. Riescono a limitare le perdite al meno 1 Inuit e Unipol mentre Snam archivia poco sotto al mezzo punto percentuale. Sul fronte valutario l'euro-dollaro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,09 e 20 circa. Stabile anche l'incrocio euro-sterlina mentre l'euro-yen riconquista i 161 punti con un allungo superiore al più 0,40%. Ed ora la panoramica a cura dell'esperto Eugenio Sartorelli. Buongiorno, nulla di fatto da parte della Fed ma era previsto perché per come va l'economia che sta tirando ancora è improbabile che ci saranno tagli almeno fino alla primavera quindi potrebbero essere o maggio o più facile giugno. I mercati per il momento andiamo a vedere hanno reagito con una piccola correzione. Questo è l'S&P 500 ma visto il rialzo forte che c'è stato visto i massimi assoluti che ha avuto l'S&P e il Nasdaq ci potrebbe stare anche dal punto di vista, vedete l'indicatore ciclico qui in basso, ci potrebbe stare una correzione fisiologica e dopo si valuterà perché appunto il ribasso dei tassi che viene spostato più in là potrebbe portare quindi nuova liquidità ma non subito liquidità che ricordo che è ritirata in realtà dalla parte della Fed e della BCE. Se andiamo a vedere anche la volatilità, anche questa sta salendo in maniera abbastanza decisa. Non è ancora un segnale di preoccupazione, questo è il VIX, però è sopra la sua media tra i mesi, è un segnale di attenzione sicuramente, di attenzione su quello che sta accadendo perché i mercati sono molto tirati a rialzo. Ci sono delle buone prospettive economiche soprattutto per l'economia americana, meno per quella europea, però siamo su massimi assoluti, invece l'economia europea è più in difficoltà eppure l'Evostox ha fatto nuovi massimi di periodo, guardate che rialzo da metà gennaio sta facendo e ricordo che anche la Germania, la Germania che sappiamo essere, avere delle difficoltà in dubbio, anche la Germania, adesso ve lo faccio vedere, ha fatto nuovi massimi assoluti. Quindi ci sta che si ritorni un po' più verso una cautela, una normale cautela, considerando che l'economia, soprattutto in Europa, non è così d'accordo su una situazione così favorevole. Già un po' di più negli Stati Uniti, ma io direi che soprattutto questa ultima parte del rialzo, qui siamo di nuovo sull'Eurostox, adesso ve lo faccio vedere anche sul Minifib, questa ultima parte del rialzo, cioè sul future italiano, è più figlio di una grande liquidità che è rimasta in punch, che c'è ancora e questo me lo conferma anche i rendimenti del T-Note, guardate il rendimento 4%, sì ma i tassi sono al 5,25 e al 5,5 e quindi qui si sconta un taglio dei tassi che è tutto da vedere, cioè non è che i mercati, quello dei bond anticipa così tanto, qui il taglio dei tassi ci sarà, ma se ci sarà dell'1-1,5% sarà entro fine anno, quindi anche questo anticipo, questo forte e deciso ribasso dei rendimenti, sembra più figlio di un eccesso, di un eccesso di liquidità. In definitiva i mercati sarebbe più che naturale che abbiano una correzione, tra l'altro dal punto di vista della stagionalità, un calcolo che sto facendo proprio adesso, gennaio, febbraio fino a circa metà marzo, sono momenti in cui ci possono essere delle situazioni, delle condizioni di correzione, correzione con alle spalle un rialzo che è in atto soprattutto sul mercato americano dal 5 di gennaio, quindi da inizio anno, quindi una correzione che riporta tutto in pari e poi si vedrà, i vari operatori vedranno se è il caso di rimanere investiti o su una correzione di rimetterci soldi e quindi portare a noi i massi, però adesso sembra una fase idonea per una momentanea correzione nei mercati degli indici azionari. Grazie Eugenio, con questo contributo termina l'appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi e una rivederci a domani con ulteriori aggiornamenti.